No! Poi ci alliemo con quelli là, se quelli là mandano a quel paese loro. Io non malleo con nessuno. Sono troppo intelligente. Avete un nome? Governo delle polizie. Intendo il nome del premier. Chi è? Ah, io. L'incarico di premier potrebbe andare a Giuseppe Garibaldi. Quel mona che otto anni fa è stato eletto per sbaglio presidente della Repubblica ha fatto un casino? No! È perfetto. Lo manovreremo come un burattino. Mi sembra un po' pochino, però, premier, no? Potrei fare capo dell'ONU? Parate sul serio. Punto uno, vietato prendere iniziative. Punto due, vietato parlare alla stampa. Dica solo, io parlo con i fatti. Se non rispetti le regole, moto sì. Ci vuole qualcuno che sappia come si dice quella cosa quando... Scrivimi. Scrivere. Tu hai accettato l'incarico solo per vedermi. Per te, Janice, sono pronto a tutto. Perché non mi hai attutito? Quando ti ho conosciuto tu lottavi per cambiare la realtà. Cambio l'Italia. E come? Come al solito. A cazzo. Ha istinto. Sembra un liceale. Pensa che io non l'ho fatta il liceo. A casa! A casa! A casa! Mi fa male la faccia. 抱 intense. A casa! A casa! Il vetri! A casa! A casa! S stranieri! A casa! A casa!